Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Il cantante Blanco si è reso protagonista di un gesto che ha lasciato tutti senza parole, finalmente ha ammesso tutta la verità In questi giorni il cantante Blanco si è reso protagonista di un gesto clamoroso sul palco di uno dei suoi concerti più attesi Lo scorso 27 luglio è infatti salito sul palco per un evento nel cuore di Roma, una serata che si è rivelata essere del tutto particolare Questo perché il giovane artista non si è presentato da solo. Nel corso del concerto ha infatti chiesto a suo padre Giovanni di raggiungerlo Un incontro che si è rivelato essere molto emozionante per i due, per il pubblico presente ed anche per chi non si trovava lì Le immagini di quel momento così toccante hanno infatti fatto subito il giro dei social e raggiunto tutti Tanti i commenti arrivati nei confronti dell'artista che dal canto suo ha voluto rivelare il motivo dietro il suo inaspettato gesto Durante l'ultimo concerto andato in scena a Roma, il giovane artista ha quindi commosso tutti quando ha chiamato suo padre Giovanni sul palco per omaggiarlo Il cantante non solo lo ha voluto al suo fianco ma con lui ha anche cantato Notti in bianco, senza dubbio uno dei brani più famosi ed emozionanti del suo ormai vasto repertorio Il settimanale TV Sorrisi e Canzone ha anche riportato le parole di Blanco che spiegano il perché del suo gesto, mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre ed oggi vederlo così orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia Fino a due anni fa lavoravo in pizzeria e mai mi sarei immaginato tutto questo Una vita quindi di sacrifici la sua e quella della sua famiglia per poter realizzare questo sogno nel cassetto Un omaggio sentito e che ha fatto emozionare tutti anche se già in passato il giovane artista ha dimostrato di tenere molto alla sua famiglia Sono ancora impresse nella mente di tutti le immagini del momento della vittoria del Festival di Sanremo con Mamoud e la canzone Brividi In quella occasione il cantante è infatti sceso dal palco per abbracciare commosso la sua famiglia presente in platea Una famiglia molto unita quindi quella di Blanco che sembrerebbe aversi ha coronato il suo sogno che reso la sua famiglia felice ed orgogliosa di lui Ciao e ci vediamo nei prossimi video